7 anni, ci mettiamo 3 minuti, no? Non sai quando erano 46 l'assi? Quante euro e 60? Lo so, però le tariffe predeterminate io le scelgo e comprese i 4 euro, non solo parte 4. Perché c'è il foglio, me l'hanno dato apposta, c'è specificato questo. Allora quello succede, noi ci stavamo guardando un po' del taranello e poi andiamo da là, no? Sì, allora un po' di meno. Ma ci diamo, ma dove c'erano i miei figli di mezzo? Mettiamo proprio questo, perché poi c'erano i miei figli di mezzo, e poi c'erano i miei figli di mezzo, e poi c'erano i miei figli di mezzo e tagliamo i miei figli di mezzo. Non c'erano i miei figli di mezzo, ma qui ci amamo... No, non c'erano i miei figli di mezzo, ma io ho lavato il freddo perché io penso che lui dovreste guadagnare 50% di più che la guadagnata, c'erano i miei figli di cazzito, perché succedono sempre da una pelle. No, ma poi sono vaticosi, sono nella viabilità. Sì, ma poi a di là, se la viabilità... Posso dire una cosa, ci danno una maglia, che questa maglia è 7 posti. Eh, lo faccio, se... A Tavio. Ogni persona in più. Io vado qua dentro, 1 euro a me, ma non capire la mia tassista, non c'è mai. No, ma perché è meglio che ci sono spazi per bagagliare. No, io la metto, non buttarsi in paglia. 1 euro in più, oltre alla tariffa. La tariffa è 7 euro, 8 euro, 9 euro. Non mi interessa, io accida mai. Però, io pazzi ce la faccio. Se voi facite però, non so, 50 corse al giorno invece che 15. Ma lo sapete. Allora, il gioco, io vorrei provare a chiamare 20 tassisti. No, io voglio fare, io voglio fare, 20 corse, 5 euro a me, non voglio fare per esempio che la la, e poi ci danno una solo euro, non sai capire. Ma ci capite, però vi dico che questo è un problema, io non lo so come faccio a me, con forze, cioè. Allora, voi dovreste lavorare indipendentemente, chi non ce ne fa di là, fa di che è più. Chi non ce ne fa di che io, l'orario stampo è più. Per esempio, a Napoli, se ci fosse, io lavoro con le discoteche, ok? Se ci fosse un tassi che dalle discoteche a casa mia, mi si prendesse, 10-15 euro la sera. Io la macchina non la prenderei proprio perché la ciaviglia c'è proprio a benzina, c'è proprio partito. Io invece arrivo nel locale, mi scamazzo la casa, esco con un paio di amici, tra la 5 tassi e faccio una corsa. Ogni persona paga un biglietto fisso, 5 euro. Dove devo arrivare, che ne so, da Agnano al Vomero, 5 euro. Da Agnano alla Ferrovia, 6 euro e 50. Fai delle cozze così, tu fai la nanziare, la nanziare, ti mandai una nottata, è capace che tu abbia bisogno di 300 euro. Però lo devi fare dipendentemente, invece no. C'è la tariffa, la cosa a cosa. Se vai di 50 euro e più un anzi, fai la doppia. E poi, a mio giudizzo, per dirlo. Non lo so. Non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Però per me, il tassi dovrebbe essere tipo rappresentante. Tipo, sta 15 ore, il mio sabino, ci ha fatto i saluti, se la sento. Ma tu devi migliorare il mio. Non lo fissi un astruzzato, perché tu magari, la mattina non fai una cazza, la sera fatica assai. Però, che tu la comanda sia, scusa, che tu la comanda sia. Ti può prendere la fatica che tu la comanda sia. Ho capito. Ci dovrebbe essere solo una cosa stabilita, ma che ci deve essere sempre lo stesso numero dei due.